Ma adesso dove porterà questo filo conduttore? Evviva! Ci ha portato la fibra! La fibra? Ma io sono cameriere e mica sono cogo! Da mangiare! Per navigare? Ah per navigare? No ma se per navigare per quello mica c'è problema Io ho un amico a Porto Nuovo, c'ha una batana Se per quello lui ce la presta non c'è problema Su internet! Su internet! Com'è che funziona sta storia? Ho trovato! Ho trovato! Ho trovato! Ho trovato! Ho trovato! Ho trovato!